Prima settimana al cinema per una storia semplice, si può fare già un bilancio di questo tour siciliano? Assolutamente sì, il bilancio devo dire è estremamente positivo. Bilancio positivo perché dalla prima Patti, in cui è stato veramente un concentrato di emozioni, forse era il contesto più intimo, perché c'era la famiglia, i parenti, la cerchia più stretta intorno ad Annarita, per poi allargarci e venire qua a Messina dove la risposta è stata veramente fantastica. Catania e Palermo, devo dire che tra tutte le esperienze Messina forse è stata oltre a Patti, chiaramente la città più ricettiva, sono state tantissime le proiezioni, in particolare devo dire con le scuole, con cui abbiamo veramente trovato tantissimo interesse da parte dei ragazzi ed è bellissimo confrontarsi con loro, ascoltare le loro domande e vedere un'incredibile curiosità verso la figura di Annarita che sembra veramente stimolarli e ispirarli. Quindi sì, bilancio positivo. Questo documentario nasce un anno fa a Macerata, c'è un momento proprio specifico nel quale vi siete incontrati? Sì, decisamente sì. Il momento è l'occasione di una conferenza in cui Pietro Strino, il marito di Annarita, l'ha ricordata insieme a Rossella Giordano, Erika Alfridi e Pietro Pastorini. In quell'occasione io ho assistito all'incontro e sono rimasto veramente rapito, rapito dalla storia, rapito da quelle emozioni, tanto che poi ho portato la storia a Goffredo Donofrio che si è innamorato anche lui e insieme abbiamo cominciato questo percorso, durato sei mesi di interviste, per poi arrivare a questo lancio che comincia adesso. Ci sono state delle specifiche scelte dal punto di vista della regia per quanto riguarda questo documentario e poi le interviste le avete, se non sbaglio, realizzate durante i mondiali di marcia a Roma? Le interviste sono state decisamente itineranti, nel senso che abbiamo fatto, siamo partiti dal nord per arrivare poi a Patti. Le abbiamo girate veramente tante, provo a dirne qualcuna, siamo stati ad Asti, a Biella, siamo stati a Milano, a Verona, a Roma appunto nell'occasione dei mondiali che era anche un modo per trovare una concentrazione di intervistati tra cui James Saville l'australiana e Korzegnowski che è polacco e quindi è stata un'occasione penso veramente providenziale. Da punto di vista della regia c'è un grande utilizzo delle fotografie dell'archivio personale dell'album di famiglia di Pietro Strino che ci ha messo a disposizione e quindi diciamo che forse quello è l'anima del film, queste fotografie che percorrono tutta la vita di Anna Rita dall'infanzia agli ultimi giorni. È un po' un racconto intimo della Anna Rita sia grande campionessa che grande donna, forse questa è la scelta anche di non utilizzare dei video di archivio o delle interviste? Sì, allora ci sono tante foto come dicevo, ci sono un po' di qualche immagine delle gare anche sotto forma di video le interviste abbiamo preferito non metterle perché ci sembravano un po' fuori tono forse quello che viene fuori è una presenza assente quindi è come se tutti la ricordassero e lei emerge in maniera completamente naturale senza però intervenire in prima persona quindi forse la scelta ha portato a questo tipo di forza che comunque è il rivendico perché mi sembra veramente un modo particolare di raccontarla lasciando un po' di spazio anche all'immaginazione. Adesso attraverserete lo stretto, ci sono tantissimi altri appuntamenti in tutta Italia magari ce li potete riassumere? Sì, sono diciamo un po' sparpagliati nel senso che domani siamo a Torino, il 31 e poi il 5 aprile Milano e ora veramente ricordarsi di tutte le date è difficile però sicuramente Roma, Bologna, Genova alcune date sono confermate per altre invece abbiamo bisogno di un po' di prevendita nel senso che il meccanismo con cui questo film indipendente funziona è che i biglietti devono essere venduti una quantitativa di biglietti deve essere venduta in anticipo quindi in alcune città come Genova ad esempio non è ancora confermato in altre invece come Roma, Milano, Torino che hanno risposto veramente bene siamo sicuri che riusciremo a portarlo e poi una tappa sicuramente importante è Macerata dove appunto questo percorso è iniziato e ha fatto la sua prima tappa ufficiale l'Overtime Festival che poi ha vinto come miglior documentario adesso ci torniamo invece con tutta la comunità di Macerata intera insomma Garau come regista è un amante dello sport non è il primo documentario che tratta proprio queste tematiche esatto, è corretto io ho cominciato proprio facendo un documentario io premetto che sono di Sassari in Sardegna e poi vivo a Torino il mio primo documentario raccontava le gesta di alcuni atleti della mia città Marzio Lepri, Gavino Matta e Tonino Sidi sono tre atleti della prima metà del Novecento tra l'altro quando ho incontrato Pietro Strino ero lì con la figlia di Gavino Matta, Bruna Matta per presentare proprio l'opera precedente che in quell'occasione aveva vinto un premio e quindi sì, è una passione che non resta neanche spiegarmi bene però il racconto sportivo è forse un concentrato di emozioni e continua ad appassionarmi, non riesco a smettere grazie a tutti